e partiamo da qua partiamo da qua secondo me si ha si ha osso un veicolo andate decidiamo subito ragazzi tre persone ciascuno ha un euro appena il lavoro è finito in eo salvo contemporaneamente vi guardate intanto vanno su in eo si e la cosa come prima sua è qui se ci pensate se vanno su insieme danno proprio l'impressione di qualcuno che ha comandato per cui ogni ultimo prodotto la musica io l'ho rotta e io faccio salire tutto è il capo supremo quindi avete due comandi qua uno qua e poi là riuscite a vedere tutte le mani così ah non va da lui per cui lui guarda sui giorni dallo stop che faccia con la testa e guarda il tempo che sta a vivere in casa provate da quando la codina io do uno stop esatto stop stop marco stop se fermano uno e parte 25 secondi e qui ci stiamo muovendo tutti vai che cosa vogliono che cosa vogliono e abbiamo finito è incredibile lo voglio riparare la tecnica si si certo è tecnica attenzione ma come era perfetto quando ci sono quando finita la scena prima si riconosce la capo dite quando ci siete penso per tutti quanti e anche per me per sapere qual è lo stop definitivo questo lo do poi vediamo cosa ci porta Francesco di musica ok marco ci stai? ok partire il movimento parte la musica sono finiti i movimenti dove siamo sempre? giusto? come loro arrivano? andate a scomparsa oltre l'americano come non ci muoviamo finché non lo vedete con l'occhio i ragazzi continuano a tirare su la va bene o? si vai legate perfetto da questo momento inizia una nuova cosa ovvero come portarvi a questo lo stanno legando allora chi è libero dalla legata cominciamo da e queste le verità come io si beh una persona del 4 e allora se non avete bisogno di loro io le lascerei non ci sono e se lasci per me non ci sono noi faremo anche una cosa altra esattamente allora si rimane nella posizia per cui sono proprio quelli che comandano loro e smontano non servite più questa fabbrica la mettiamo in Polonia e questo è il suo testo non servite più questa fabbrica si porta in Polonia non servite costate troppo non volete un cazzo andiamo in Polonia rotta mano rotta mano rimanete così e vi smontano sotto il culo quindi è una persona per quadrato una persona per quadrato tranquilla metodico va bene stessa cosa noi te che stai raggiando avrei regato e cominci a far il primo gruppo di cartonelle voi che state schiacciole voi che state qua vi fate un gruppo pure voi mi mettete e portavo tutti schiacciole tranquilli locchi locchi esatto voi proprio un altro tempo un altro tempo proprio un altro mondo si dai se volete dare sì allora basta inero eh basta inero sì proprio ragazzi loro tranquilli c'è loro lo so e poi c'è questa fabbrica questa scena qua noi calcoliamo che se voi siete stati qua con questa scena quando fanno spettacolo voi state là se voi si fanno dire che state là sballano tutto capito quindi voi due state là vissi piano regà controllate certo vogliamo che schiena lo so del targente se c'è nel senso se si fiedono l'americana si piano e dritte qua qualcuno mi ha detto qui mi ha detto se cacinella io non so come prima prima dai ci stai qui allora cosa è il poltiero ragazzi se vi viene di dire qualcosa di chiacchierare chiacchierate non dico voi dico le contatoi voi siete fermi dove siete chiacchierare se ti rimane rimane le crosse dietro parti da qua perché è così così da qua fai fai chiacchierare c'è chiacchierare Ossi, come si diceva che si porta una fabbrica in un'altra nazione? E' un'altra nazione di localizzazione. 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 non so la ribaltina dove sarà non c'è bisogno di farla adesso però presumo come la vuoi fare? qui? si no no intendevo come posizione solo questa dunque l'idea è l'orifersi questa che usando un quadrato quindi se loro diciamo la luce potrebbe essere questa della ribalta e quindi poi queste luci adesso non so puntare perché non c'è ancora la situazione e vanno quindi loro hanno le luci che vanno così e quindi così la situazione vorrebbe essere da qua così mi metterà perfetto ok allora siccome arriveremo a una situazione qui saremo un po' seduti di qua e un po' seduti di là da adesso voi farete girare con i miei segni mi passeremo cantando Danina Nannafricana che è quello che avverrà veramente ora attaccatela adesso e un po' seduti di qua Quanto si è seguito? L'ultimo è finita. 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 L'ultimo è finita. Quanto si è seguito? 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 L'ultimo è finita. Uno, uno ci manca, ma quando ne capita più in realtà, ti aspetta solo a fare. Che ci sia solo l'orlo salvo o non ci sia, questo è quello che succede. I ragazzi di prima passano l'ora, li salutiamo, sono lo spirito, ma con questo, quando se ne sono andati, passa un po' di tempo e comincia ad andare in una logica. Non lo telefonate subito che viene andretti, con calma di piatto. No, no, io ne sono già trovato. Sì, sì, esce da voi. E male così. E forse qui, facciamo la piramberlata, forse. Facciamo la piramberlata qua. Eccola. Eccola. E ci sento una voce che fa realtà, visione, visione. Eccola. 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 facciamoci qualche po' il 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.